Buon pomeriggio per Piccardo TV, siamo qua con Sanà a commentare la vittoria per 5 a 2, anche una tua ottima prestazione direi. No, è importante aver vinto, aver portato a casa i tre punti, poi la prestazione individuale passa in secondo piano, quindi sono contento e continuiamo così partita per partita e vediamo come andrà. Ho visto che ci avete sempre creduto, non vi siete mai persi d'animo anche dopo aver subito il gol del 2-1, subito inizio secondo tempo, su un'azione abbastanza discutibile direi. Sì, sono tutte cose che dimostrano che ci siamo, che la squadra lavora, dimostrazione di carattere, quindi bravi a tutti, dal mister al diciottesimo, quindi continuiamo così. Ok, direi che può bastare tutto anche per il più giovane di tutti, grazie.